e bella a tutti i pescatori ben ritrovati con ernesto angler su questo nuovo canale oggi ci troviamo al lago andremo a fare una pescata a carpe in compagnia di un amico edoardo ciao ragazzi il buon pomeriggio si siamo venuti qua un lato artificiale vicino roma a fare una pescata a carte vedremo cosa ci regalerà questo lago ciao ecco ragazzi cattura anche per ernesto molto bella una bellissima carpa una bella carpa molto bella bella regina adesso la portiamo subito a guadino eccola qua una bella carpa bellissima molto molto bella come carpa bravo ernesto complimenti ecco qua dai pescatori andiamo a correre con il rilascio via subito ripartita ciao bella dai eccola qua prima cattura per edoardo la sguardo carpetita sguardo sguardo lo slaviamo subito eccola qua andiamo con il release eccola qua bella carpetta grande vai con il rilascio seconda cattura per eduardo eccola qua tappetino vai grande dalla bocca eccola qua andiamo con il release grande carpetta vai con il rilascio grande ma dopo ragazzi con l'acqua un'altra cattura dalla regina ragazzi un'altra cattura andiamo con il rilascio dai eccoci qua ragazzi cattura per ernesto dai e partita piccolino la carpetta piccola carpa piccola piccola cattura incastrata sul feeder eccola qui mini cattura eccola qui andiamo subito al release vai dai dai micro cattura eccola qua un'altra cattura per eduardo dai tagli 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 pescatori tagli 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 trovi senaci lasciate un like iscrivetevi al canale attivate la campanellina per essere aggiornati su tutti i video noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao ciao chiam결� Grazie.